ciao amici il natale si avvicina ed ecco alcuni consigli per antipasti sfiziosi e divertenti il primo è un cannolo di salmone con formaggio spalmabile andiamo ad affettare finemente dell'erba cipollina prendiamo due cucchiai di formaggio spalmabile e li uniamo appunto all'erba cipollina appena tritata finemente e a un goccino di olio extravergine di oliva giriamo e formiamo andiamo a mischiare il composto prendiamo una fettina di pane in cassetta lo assottiliamo con il mattarello dopodiché prendiamo il nostro prendiamo del salmone affumicato lo andiamo a condire con un po di olio extravergine di oliva pepe e se vogliamo del sale dopodiché prendiamo la fettina di pane in cassetta ci spalmiamo il formaggio mettiamo la nostra fettina di salmone e se ci piace andiamo ancora a grattare un pochettino di buccia di limone che darà ancora gusto al nostro cannolo lo rigiriamo su se stesso e dalla parte della chiusura andiamo a metterlo in una pentolina in una padella da crepe che noi abbiamo precedentemente spalmato con un filo di olio extravergine di oliva cuociamo da tutti i lati il nostro cannolo dopodiché prendiamo un piatto prendiamo ancora un filo di formaggio avanzato ci adagiamo il cannolo sopra e completiamo il nostro piatto con l'altra fettina di salmone e un filo di erba cipollina con un goccino di olio extravergine di oliva andiamo ora a preparare un secondo antipasto che sono dei cestini di parmigiano reggiano che farciamo a nostro piacimento sempre nella solita padella da crepe andiamo a prendere due cucchiai di parmigiano reggiano li adagiamo all'interno la fiamma deve essere molto dolce quando vediamo che il nostro parmigiano reggiano inizierà a diventare di un di un bel colore dorato con una spatolina piano piano lo stacchiamo e lo giriamo dalla parte opposta andiamo circa a cuocere un minuto minuto e mezzo per lato dopodiché prendiamo una tazzina da caffè e ci mettiamo sopra il nostro dischetto di parmigiano reggiano e andiamo così a formare un cestino questi cestini sono molto divertenti perché possono essere farciti in mille veramente in mille modi io a me piace farcirli con degli affettati qui ho fatto con del prosciutto crudo una composta di fichi il secondo con mortadella succo di limone e ancora zest a presto con altri antipasti per la nostra cena e il nostro pranzo di natale